Un weekend veramente ricco di iniziative. Si comincia domani con l'adesione alla giornata del mare. Sì, è vero. Domani FIDAP Business Professional Roman Spezia parteciperà alla giornata del mare con un laboratorio artistico per i ragazzi. Il cuore del nostro weekend è comunque rappresentato da sabato 15, dove in Sala Dante alle ore 16, aperto a tutta la cittadinanza che avremo il piacere di incontrare, noi avremo il premio. Premio organizzato proprio dalla sezione spezzina di FIDAPA, Business Professional Human Cup, che consiste in un riconoscimento a donne di eccellenza, per cui verranno premiate la premiata leader, quindi abbiamo la direttrice del Mare Vivo, poi abbiamo la premiata Young, Chiara Bianchetti, che è un biofisico ricercatore e una pianista spezzina per il premio speciale della giuria, Perazzo Barbara. Certo. E domenica invece un altro appuntamento per voi della FIDAPA veramente importante. Perché? Che cosa succederà? Un percorso storico con accompagnamento musicale dal Cinquecento a oggi. Un simposio. Dove si tiene e come si svolgerà? Allora, alla Mediateca è l'assemblea distrettuale di FIDAPA, cioè le regioni che compongono il distretto nord-ovest ci onorano domenica della loro presenza in assemblea. Quindi avremo Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia e Piemonte. A seguire, dopo l'assemblea riservata naturalmente alle socie, invece aperto a tutti, abbiamo questo incontro musicale perché abbiamo voluto dare una sottolineatura artistica con il riconoscimento delle artiste musiciste dal Cinquecento ad oggi. Grazie.